Da amante di Pinocchio ho detto voglio parlare di questo nuovo trailer che è uscito su YouTube dedicato proprio a questo nuovo live action del classico Disney che uscirà purtroppo esclusivamente sulla piattaforma Disney Plus dall'8 settembre senza passare per le sale cinematografiche già saprete perché l'ho detto in più video quanto io ami il personaggio di Pinocchio sono cresciuto con il romanzo di Collodi e poi ho visto tutte le trasposizioni che fossero televisive quella di Comencini nel cuore ho anche avuto il piacere di intervistare per ben due volte su questo canale Andrea Balestri e poi la trasposizione di Benigni cinematografica e poi comunque il Pinocchio musical anche andai a vedere quello con le canzoni dei Poop per non parlare anche del Pinocchio di Ceccherini e Pasci per noi toscani che è nel nostro cuore ecco dopo quel film meraviglioso che è stato il live action di Matteo Garrone ecco che purtroppo solo su una piattaforma streaming potremo vedere prima l'adattamento di Zemeckis che è un maestro e poi a dicembre l'adattamento di un altro maestro cioè Guillermo del Toro la stessa storia eppure trattata in due maniere completamente differenti per di più poi quello di del Toro si svolgerà nell'Italia della seconda guerra mondiale quindi sarà molto affascinante vedere come del Toro abbia ripreso lo scritto di Lorenzini ma modificandolo e facendolo proprio come piace che come a me piace che si faccia quindi la fedeltà non la ricerco per forza perdonatemi per questi capelli sbarazzini ma fino a mezz'ora fa ero a nuotare nell'acqua del mare il vano quindi ho detto giro questo video lo stesso anche se non ho un look propriamente adeguato detto ciò questo nuovo trailer perché quello che era uscito precedentemente non è che lasciasse intravedere molto sì ti mostravano delle scene che potevano sembrarti succulente però soffermandosi sempre quando si rendevano conto di mostrarti troppo quindi si soffermavano e ancora ci lasciavano col dubbio questa volta invece vediamo delle situazioni a noi molto care perché come ben sappiamo questo film si rifarà al classico animato della Disney degli anni 40 un autentico capolavoro che ha fatto la storia del cinema ricorderete che l'unica cosa che non mi convinceva ogni volta che ne ho parlato era la fatina nera non perché fosse nera per me poteva essere anche gialla il problema è che se tu vuoi fare un film che ricalchi perfettamente il classico Disney e mi fai una fatina di colore la cosa stona un po poi oltre a questo il trailer che è uscito da poche ore su youtube anche in italiano mi ha proprio convinto di quanto sia orribile indipendentemente dal fatto che sia nera rossa non mi piace proprio il personaggio l'attrice che è stata scelta perché sembra un attaccapanni mi dispiace dirlo però vedo tutto che ricorda il cartone animato vedo che qualsiasi cosa mi ricorda il classico Disney c'è questa voglia di far rivivere il classico d'animazione poi c'è questo personaggio della fatina di colore che stona tantissimo e un pugno nell'occhio oltre ad essere proprio brutto indipendentemente dalla differenza dal classico Disney è proprio secondo me brutto esteticamente però vabbè han deciso di fare così vediamo un po nel film se renderà di più per quanto lo sappiamo nel classico Disney non è che la fatina si vedesse più di tanto all'inizio e alla fine per il resto il trailer mi ha propriamente convinto Zemeckis secondo me quel che tocca lo rende oro sinceramente vedere anche questa grafica questa voglia di riproporre in un live action quei personaggi del classico Disney del 40 come se letteralmente fossero saltati dal cartone animato al film a me fa piacere vedere quindi il Pinocchio che ricorda perfettamente proprio stilisticamente esteticamente il burattino del film del 40 mangia fuoco interpretato ragazzi da Giuseppe Battiston io questa cosa l'ho scoperta ultimamente ma orgoglio italiano è un attore che a me piace e per di più pensare di poterlo vedere in questa grande produzione diretto da Zemeckis nel ruolo di mangiafuoco perché inizialmente io pensavo fosse così una voce e invece sono andato a documentarmi su internet anche sui maggiori siti di informazione cinematografica troverete associato al ruolo di mangiafuoco Giuseppe Battiston quindi pensate un po voi e devo dire che questo trailer lascia intravedere delle dinamiche a noi molto cariche abbiamo già visto nel nel film d'animazione l'incontro con il gatto e la volpe e devo dire che la cgi l'ho trovata decisamente riuscita mi piace anche la cgi del grillo mi piace molto la cgi di Pinocchio che al cento per cento è quello del film d'animazione mi piace moltissimo l'atmosfera mi piace la musica ma mi piacciono anche quelli che potrebbero essere non dico degli stravolgimenti ma delle aggiunte perché ad esempio ci sono delle sequenze ambientate nel paese dei balocchi in cui sembra quasi che Pinocchio vada sulle montagne russe oppure quando è inseguito dal pesce cane dal pesce cane che surfi no attaccato a questa acuila che lo trasporta e quindi lui sta surfando quindi sicuramente questo trailer ci lascia percepire che ci possano essere anche delle situazioni delle sequenze nuove delle delle aggiunte apposta per il film senza quindi andare per forza a ricalcare al cento per cento il film d'animazione questa cosa mi fa piacere a me fa piacere perché apprezzo sempre l'intento autoriale l'intento di un regista che prende da un qualcosa di molto conosciuto e poi ci mette del proprio quindi io sono rimasto decisamente soddisfatto non vedo l'ora di vedermi sia questo sia quello di del toro per quanto io stia attendendo di più quello di zemeckis perché la magia che mi lascia trasparire zemeckis anche solo vedendo questo trailer e Pinocchio che cammina con il gatto e la volpe ma anche il lucignolo in carne ed ossa che vediamo alla fine le immagini del pesce cane a Pinocchio con con un geppetto immenso interpretato da tom hanks che sarà doppiato quindi dal caro angelo maggi che ho avuto il piacere di intervistare su questo canale a me lascia lascia veramente una sensazione di di voglia di vederlo ecco io spero veramente che anche il film possa essere all'altezza ma con zemeckis non ho dubbi ho sentito delle critiche alla cgi del burattino effettivamente per me non si merita di essere criticata dal momento in cui ricalca quella del cartone animato e sembra di veder risplendere rivivere quel capolavoro degli anni 40 degli anni 40 in un film che purtroppo potremmo vedere questo lo ripeto fino all'esaurimento potremmo vedere esclusivamente in streaming cioè veramente un film di zemeckis al cinema dovrebbe essere l'abc ed invece dobbiamo vedere un film su Pinocchio diretto da zemeckis in streaming idem con del toro poi forse con del toro essendo netflix ci potrebbero essere delle delle sale selezionate che potrebbero proiettarlo non si sa mai fatto sta che la curiosità è tantissima dall 8 settembre io attendo nella sezione commenti di sapere la vostra io sono rimasto molto convinto da questo trailer tranne per la terribile fata turchia ripeto per me non è una questione di colore della pelle è una questione che proprio brutta c'è poco da fare come se avessero fatto un geppetto brutto l'avrei detto che fosse bianco nero celeste blu sinceramente quella fatina lì mi dà l'idea di essere inserita per un'inclusività forzata e proprio perché io ho a cuore questi temi così importanti quindi il dover giustamente far lavorare anche le minoranze però non inserirle a forza per rispetto proprio ad essi quindi vedere questa fatina in un film che voglia ricalcare il cartone animato cioè tutto è uguale al cartone animato e poi una fatina nera allora fammo un pinocchio che invece che rizzargli il naso gli si non lo so gli si allungano le orecchie le orecchie non lo so però ecco sono rimasto titubante spero che il film sotto questo aspetto mi faccia ricredere ma ho i miei dubbi fatto sta che vi attendo nella sezione commenti così potreste dirmi la vostra e per favore evitate la critica basta di pinocchio ne hanno già fatti tantissimi non conta quante volte una storia viene raccontata ma come la si racconta e soprattutto chi la racconta cioè qua noi vedremo tra poco un pinocchio diretto da zemequis e poi vedremo un pinocchio diretto da del toro cosa volete di più ragazzi vi abbraccio e noi ci vediamo ad un prossimo video perdonate per la capigliatura sbarazzina così ancora peggio alla prossima con questa maglia e ovviamente sergio leone clean peaceful ciao ciao dall'elba